Perdonanza numero 729, tutto è pronto, dinanzi alla Basilica di Colle Maggio si stanno effettuando gli ultimi lavori per allestire il palco che ospiterà gli spettacoli, però insomma quest'anno non è che sia partito tutto con il messaggio di Papa, proprio di Papa Celestino, perché come l'anno scorso molte polemiche ci sono state proprio per il palco montato dinanzi alla Basilica di Colle Maggio. Questa è stata un'idea diciamo negli anni scorsi del direttore artistico Leonardo Di Amicis che ha pensato di creare proprio qui per gli spettacoli una sorta di teatro del perdono dinanzi alla Basilica di Colle Maggio. Quello che però ha fatto arrabbiare cittadini e anche politici quest'anno è la presenza del palco troppo ravvicinata e lo vedete dalle immagini alla Basilica di Colle Maggio, soprattutto per ragioni di sicurezza. La motivazione del comune? Salvaguardare il prato che è stato appena rifatto ma la gente non ci sta. Il vice sindaco Raffaele Daniele interpellato dice solo vorrei che le persone fossero per la città non contro, la motivazione è la salvaguardia del prato, fatto sta che il palco così vicino all'ingresso della porta della Basilica di Colle Maggio, oltre a coprire ancora di più la facciata anche da vicino, a rendere nulli i giochi di luce del rosone dentro e a far sorgere qualche perplessità sulla sicurezza, ha fatto infuriare un po' tutti in città. I turisti per ammirare la bellezza devono alzare letteralmente il collo, i muletti con gli operai impegnati nei lavori passano e ripassano. C'è chi dice solo una settimana, c'è chi chiama in causa la sovrintendenza e la curia. Un palco così vicino ad un bene così importante è sicuro? E quando ci saranno tanti pellegrini ad attraversare la porta santa come si farà a gestire quel poco spazio? Insomma il preperdonanza è condito da queste polemiche. Inutile dire che tutti i politici di opposizione hanno avuto da ridire, ma anche molti intellettuali cittadini sulla scelta di mortificare al loro giudizio il messaggio della perdonanza di Celestino. Da quel che si sa, alcune associazioni locali vorrebbero muoversi per presentare un esposto alla sovrintendenza. Arrivare il palco sul sagrato della Basilica, così vicino alla facciata, per preservare il prato appena fatto, suona come una scempiaggine. Perché è come se si volesse affermare che il prato ha un valore maggiore rispetto al monumento a servizio del quale è stato realizzato. Non solo. Un palco di quelle dimensioni opprime e impedisce la piena godibilità e la fruibilità del bene, non in senso stretto, non solo l'accessibilità e la comodità degli accessi, ma impedisce la piena godibilità del monumento nel suo contesto monumentale. Questa è una prima questione. La seconda questione riguarda i 5 metri. Il parere della sovrintendenza parlerebbe di 5 metri. Se questi 5 metri non sono stati rispettati, che cosa succede? Si sospende la manifestazione? Certamente no. Però il codice prevede, in base all'articolo 160, che venga fatta una segnalazione sulla base della quale verranno presi dei provvedimenti che per noi saranno utili per il prossimo anno e anche questo è un dato importante. La discussione che si fa intorno a questo palco ci serve a migliorare la questione anche alla luce dei prossimi eventi.